Giorni importanti per estra la holding con sede a Prato di cui è socia la nostra Coingas. In mattinata ha approvato il bilancio di previsione e concluso la collocazione di obbligazioni per un valore pari a 80 milioni di euro. Nella notte si evidenzia come questa operazione abbia avuto lo scopo di rifinanziare in parte il debito esistente a seguito dell'emergenza pandemica oltre che rafforzare il piano di investimenti del gruppo. Il bilancio è stato approvato dai membri attuali senza la presenza del delegato Aretino che solo in una seconda fase è entrato a fare parte del board. Infatti per Giovanni Grazzini si è reso necessario attendere che le procedure all'ordine del giorno fossero espletate. Siccome non si è reso partecipe delle scelte precedenti la sua presenza non era obbligatoria. Poi quando all'ordine del giorno era in discussione l'integrazione del nuovo membro mancante è stato attivato il collegamento da remoto. A Grazzini è stata data la comunicazione che lo autorizza a fare parte della nuova squadra presieduta da Alessandro Piazzi. Il bilancio poi verrà sottoposto ai soci di Estra entro e non oltre il 10 maggio. Nota parte l'ex presidente Francesco Macri aspetta la decisione del TAR. Intanto non ha lasciato il settore visto che è entrato e con un ruolo di primo piano in una società del settore assumendo un grosso incarico entro maggio. Ne sapremo di più. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.